Angelo Manon Gronos Allora, questo pezzo l'ha scritto un nostro carissimo amico che vive in New Orleans, in Louisiana e non parla di uno pazzo parla semplicemente di uno che ha le gambe pazze quando sente questo ritmo New Orleans, Zydeco con impressione voodoo non riesce a stare fermo le gambe pazze ho le Alzheimer ma mi si alza ancora sarai un bel migliore non riesce a stare fermo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti